allora siamo appena tornati dalla spesa euro spin quindi vi mostro velocissimamente perché ho pochissimo tempo cosa abbiamo acquistato allora ho preso questo succo sete di frutta pera banana e mela praticamente è un succo super liquido come se fosse acqua fruttata ecco patate poi ho trovato questo trio di mutandine di spider man per fede per federico 68 anni costavano 3 euro e poco più banane poi abbiamo preso ricotta scusate con una mano sola è sempre un po complicata farina pomodorini poi ho preso due fruttine ecco una è volata bene banana e l'altra è mele pesca colgo dopo poi ho preso tritata di car trita di carne macinato sceltissimo per fare ora un po di ragù o le polpette non lo so come come ci gira poi il bricca in offerta 99 centesimi qua abbiamo la cipolla a cubetti devo subito metterla in freezer poi qua abbiamo la carne aiuto la mia mano è una cosa assurda carne per nala al pollo e tacchino 2 poi formaggio spalmabile tipo filadelfia e qua c'è l'aglio mamma mia che l'odore a cubetti che devo subito mettere in freezer non ce la fa più poi abbiamo yogurt vellutati schiacciatine a rosmarino 2 litri di latte che non sto a mostrarvi 2 pacchetti di parmigiano aligiano d'off poi vabbè queste sono altre cosine che ho preso per la scuola di fede ma non ve le sto a mostrare poi abbiamo plum cake perché a scuola fede deve portare la merenda quindi mi sono armata queste crocchettine di formaggio bastoncini di pesce 2 pacchettini di bastoncini di pesce perché in offerta 99 centesimi cereali al miele ovviamente carciufini sempre rustici poi yogurt questo qua per far fare merenda dopo a fedino che gli piacciono tanto i succhi erano in offerta a 79 centesimi 6 quindi ne ho prese due confezioni una albicocca e una pera yogurt da bere che piace tanto a fede ciliegie e vaniglia una bottiglia di acqua frizzante un pacco di spaghetti spaghetti normali un pacchettino di gnocchi erano in offerta e hanno un sacco di percentuale di patata 80 per cento quindi vogliamo provarli e la pastina questa qua la stellina credo di avervi mostrato tutto spero che il video super flash vi sia piaciuto sto controllando se non ho dimenticato nulla no qua ci sono gli altri succhi alla pera ah ecco anche le calzine di topolino e con questo vi saluto vi auguro una buona serata e ci vediamo prestissimo con nuovi video ciao ciao